Eccolo! Johnny si rianima! Presto, presto, si sta rianimando! Merda! E' fatta! E' fatta! Oddio! E' fatta da sole! Perché stai prendendo l'AB? Johnny! Io clippo tutto, io clipperò tutto! Johnny! Non perdete il treno! Oh, bellissimo! Ma ce la... Ma parlano, ma parlano Johnny! Ecco il go! Eccoli! Ben fatto! I sogni non mancano, eh? Yeah! Ehi! Ugh! Oh John! Immortale! Oh! Sfertica! Oh, le armi! Ecco le armi nostre! Bellissimo! Questa è la clip Suprema Me la salvo tutta E l'ha diventato Un altro operatore alla fine Come?